Un'immagine falsa, molto probabilmente generata grazie all'intelligenza artificiale, ha fatto tremare Wall Street per alcuni minuti. La foto, rilasciata da alcuni account Twitter verificati dal badge blu, raccontata di un'esplosione vicino al Pentagono, completa di fumo e macerie lasciando capire che c'era stato un terroristico contro l'edificio della difesa americana. Un'immagine completamente falsa, abbiamo detto. E in pochi minuti i funzionari di Washington hanno negato.